Ti presterò il mio modo di camminare e hanno cura dei concircuiti liberandoti, liberandomi dalla massa nera che ci comprime il cervello e dopo aver camminato ci fermeremo a guardarti tu non puoi capire, tu non puoi sentire tu non sei come voi, tu non sei come uno di noi e strapperemo oggi un cervello liberandoti, liberandomi dalla massa nera che ci comprime il cervello tu non puoi capire, tu non puoi soffrire liberandoti, liberandomi liberandoti, liberandomi, liberandomi dalla massa nera che ci comprime il cervello ti presterò il mio modo di camminare e hanno cura dei tuoi concircuiti liberandoti, liberandoti dalla massa nera dalla massa nera che ti, che ci, che ti comprime il cervello liberatemi, liberatemi liberiamoci dalla massa nera, nera, nera non potete piu 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.